Il trinomio notevole di secondo grado è un particolare trinomio che è possibile scomporre senza passare dalla formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. Vediamo come. Ciao, io sono Luigi e in questo canale potrai trovare lezioni pratiche come questa e video su come studiare al meglio. Quindi se non vuoi perderti nessun aggiornamento, iscriviti e attiva la campanella degli avvisi. Ma ora passiamo alla lezione. Vediamo la scomposizione di un particolare trinomio di secondo grado, il trinomio notevole detto anche trinomio speciale. Preciso che questa scomposizione è possibile effettuarla soltanto sotto determinate condizioni. Infatti non sempre è possibile risalire a questa scomposizione soprattutto per la difficoltà nel cercare i numeri che la caratterizzano. Infatti questo tipo di scomposizione è valida unicamente quando i numeri che andiamo a cercare sono interi. Quando non lo sono è talmente difficile che è meglio affidarsi alla scomposizione tramite la risoluzione dell'equazione di secondo grado. Perché effettuiamo la scomposizione del trinomio notevole? Per fattorizzare il trinomio in vista di una semplificazione o della ricerca di un massimo comundivisore o un minimo comune multiplo. E come lo facciamo? Sfruttiamo i coefficienti del trinomio che ci daranno informazioni sui due numeri che saranno poi la base della scomposizione. Vediamo la teoria. Il trinomio notevole possiamo scriverlo come ax2 più bx più c. Differenziamo due casi. Il caso in cui il termine a è uguale a 1 e allora avremo x2 più bx più c e il caso in cui a è diverso da 1. In entrambi i casi cerchiamo due numeri interi n1 ed n2. Vediamo le caratteristiche che devono avere questi numeri interi in un caso e nell'altro. nel primo caso il loro prodotto deve essere uguale al termine c e la loro somma uguale al termine b. Nel secondo caso il loro prodotto è uguale a c moltiplicato per a e la loro somma è sempre uguale a b. Cosa facciamo una volta che li abbiamo trovati? Nel primo caso abbiamo completato la scomposizione perché sarà x più n1 per x più n2. Nel secondo caso invece scriveremo il trinomio in questa forma ax2 più aperta tonda n1 più n2 chiusa tonda per x più c e poi continuiamo svolgendo il prodotto e poi i raccoglimenti fino alla scomposizione definitiva. Vedremo dopo l'esempio. Vediamo il primo esempio. Abbiamo il trinomio x2 più x meno 12. I coefficienti sono a uguale a 1, b uguale a 1 e c che ho evidenziato in verde uguale a meno 12. Sfruttiamo le informazioni che ci dà il trinomio. Abbiamo n1 per n2 uguale meno 12. n1 più n2 sarà uguale a 1. cerchiamo allora le coppie che danno come prodotto 12. Sono 1 per 12, 2 per 6 e 3 per 4. In questa prima fase di ricerca di coppie che danno come prodotto appunto 12 non ci importa ancora il segno. Ragioniamo ora sul segno del prodotto. Il segno del prodotto è negativo, ciò vuol dire che i due numeri hanno segni opposti, uno positivo e uno negativo. Avendo i due numeri segno opposto, ragionando sulla somma, possiamo concludere che la somma è una misura della distanza che c'è tra questi due numeri. La distanza fra i due numeri che stiamo considerando è pari allora a 1 e l'unica coppia che ha due numeri che hanno distanza 1 fra loro è appunto quella formata dai numeri 3 e 4. Attribuiamo i segni, sappiamo che i due numeri hanno segni opposti. Allora, essendo la somma positiva, il più grande sarà quello positivo. Quindi, in definitiva, i due numeri sono meno 3 e 4. Possiamo allora scrivere la scomposizione finale sostituendo a n1 e n2 i valori che abbiamo appena trovato. x meno 3 per x più 4 è la scomposizione finale di questo trinomio notevole. Vediamo un altro esempio. x2 più 15x più 50. Abbiamo evidenziato i termini b e c, a in questo caso è ancora uguale a 1, e sfruttiamo sempre le informazioni che ci dà il trinomio. n1 per n2 in questo caso è 50, n1 più n2 uguale a 15. Cerchiamo le coppie che danno allora come prodotto 50. Sono 1 per 50, 2 per 25 e 5 per 10. Ragioniamo sul segno del prodotto. Il segno del prodotto è positivo. Allora vuol dire che i due numeri hanno lo stesso segno, o entrambi negativi o entrambi positivi. Sono quindi concordi. Ragioniamo allora sulla somma. La somma è positiva, allora vuol dire che i numeri sono positivi e saranno, di conseguenza, dovendo dare la somma 15, 5 e 10. Possiamo allora completare la scomposizione, x più n1 per x più n2, sostituendo i numeri che abbiamo trovato. x più 5 per x più 10 è allora la scomposizione di questo trinomio. Vediamo l'ultimo esempio con a diverso da 1, quindi dovremo operare in maniera leggermente diversa, un po' più complicata. Abbiamo 3x2 più 5x meno 8. Evidenziamo i coefficienti con diversi colori. a è diverso da 1, quindi cambiano le informazioni sul prodotto. n1 per n2 sarà allora uguale a c per a, quindi meno 8 per 3 uguale meno 24. n1 più n2 sarà uguale a 5. Sfruttando gli stessi ragionamenti degli esempi precedenti, troviamo i due numeri, e sono 8 e meno 3. Scriviamo la scomposizione del polinomio. ax2 più n1 più n2 per x più c diventa 3x2 più 8 meno 3, i due numeri che abbiamo trovato, per x meno 8. Allora svolgiamo il prodotto. 3x2 più 8x meno 3x meno 8 e raccogliamo prima parzialmente e poi totalmente. 3x per x meno 1 più 8 per x meno 1, dove abbiamo raccolto il 3x fra primo e terzo termine e l'8 fra secondo e quarto termine. Raccogliendo totalmente x meno 1 riusciamo a scrivere la scomposizione che è appunto x meno 1 per 3x più 8. Facciamo alcune considerazioni finali. La prima è che dobbiamo distinguere i casi in cui il termine della x quadro, quindi il termine a è uguale o diverso da 1 e ci comporteremo in maniera chiaramente diversa in un caso o nell'altro. La seconda è che dobbiamo prima ragionare sui possibili numeri e poi eventualmente sui segni. Quindi per prima cosa cerchiamo i prodotti e poi andiamo a ragionare sui segni e poi combiniamo i due ragionamenti. La terza considerazione è che se a è diverso da 1 applichiamo il procedimento più lungo, nel quale andiamo prima a raccogliere parzialmente e poi totalmente dopo aver decomposto il e poi andiamo a ragionare sui segni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.